Una rassegna tanto gradita per noi come quella del Dovizzi, che era ambita ormai da diversi anni. Eravamo curiosissimi di vedere questo teatro tanto decantato, conosciuto, una location bellissima. L'abbiamo visto, siamo rimasti ancora più meravigliati di quanto ci si aspettasse. È veramente una chicca, come diciamo noi. Sì, ha ragione, siamo un po' perplessi per quanto riguarda l'organizzazione e l'allestimento perché noi utilizziamo ancora delle scene classiche, lavoriamo ancora in maniera molto tradizionale, forse un po' troppo. E questa novità di dover non usare le nostre scene in legno tradizionali, di dimensioni e peso notevoli con le quali siamo abituati ormai da più di vent'anni, è per noi un'esperienza nuova, è una sfida. Sicuramente è una sfida a cui non ci vogliamo tirare indietro. Speriamo di riuscire con qualche escabotage, qualche trucco, qualche invenzione e qualche suggerimento da che è più esperienza di noi, di presentare una bella commedia perché effettivamente è carina. A noi è piaciuta tanto, ci siamo tanto divertiti nel periodo delle prove e anche nel periodo delle repliche. e quindi di presentare questa commedia che è carina e anche in un modo gradevole con una sceneggiatura, con una scenografia diversa da quella che normalmente siamo abituati ad usare.